ben ritrovati amici di racing time oggi andremo a raccontarvi una storia una storia che è fatta sì di lusso ma è fatta anche di emozioni di tradizione di grande passato e di presente e naturalmente anche di motorsport insomma un menù decisamente ricco molto molto interessante ad essere chiamato in causa è il marchio bentley ma non solo bentley nella sua alleanza con il marchio breitling e per parlarci proprio di questa alleanza ci ha raggiunto in studio patrizia asti amministratore delegato breitling italia benvenuta grazie buonasera a tutti e poi naturalmente come sempre qui con noi paolo artemi giornalista opinionista stai corriere della sera benvenuto anche a te grazie grazie a tutti grazie patrizia patrizia dicevamo allora questo legame oramai consolidato da tanti anni e vorrei chiederti quando è iniziato questa storia tra bentley e breitling e quali sono un po i temi comuni cosa vi hanno portato proprio a questa unione allora queste due case dalla bialata si uniscono nel 2003 e da allora è nata per quanto riguarda breitling una collezione dedicata a bentley che si chiama proprio brightley for bentley e che si nuova ogni anno quindi è veramente un sodalizio importante molto sentito e anche il più longevo tra casa orologera e casa automobilistica quindi un legamo veramente molto forte molto solido e si traduce con l'orologio che nella plancia delle bentley è comunque sempre marchiato breitling e con una collezione appunto dedicata alle alle autovetture queste meravigliose autovetture e di cui spesso noi riprendiamo i nomi c'è da precisare che questo accordo tra brentley e breitling che nasce nel 2003 e forse era nato un pochettino prima anche perché se proprio vogliamo dirla tutta il mondo dei motori con breitling nasce insieme con la fondazione della casa orologiaia breitling ha sempre avuto questa grande passione per l'aviazione e per la marina ma soprattutto ha fatto un orologio che è una cosa di una bellezza e di una utilità clamorosa si chiama emergency ed è un orologio che ha una capacità incredibile perché consente alla gente che si perde nel mondo nello spazio di essere ritrovata ma è vero che bisogna essere solo dei piloti di aereo per avere questo orologio patrizia allora grazie che mi dà l'opportunità di parlare di emergency perché sicuramente la nostra bandiera come breitling emergency è veramente il al vertice della tecnologia ed è veramente un prodotto per piloti è progettato per i piloti e ha questa possibilità appunto di estraendo semplicemente un'antenna in caso di necessità essere localizzati in qualsiasi punto del mondo quindi è veramente un prodigio di tecnologia se si pensa di micromeccanica visto se si pensa che tutto questo è inserito in una cassa di 50 mm è utilizzato dai piloti appunto però è un orologio veramente adatto diciamo a tutte le persone e quindi è aperta la vendita a tutti i possibili acquirenti che ama l'avventura che ama andare in barca a vela chiama semplicemente lo spirito breitling trova in emergency un po il suo il suo orologio simbolo è un orologio complicato anche perché nel solo nel suo concepimento noi abbiamo dovuto chiedere ogni singolo paese del mondo al ministero della difesa una autorizzazione per poter essere introdotto sul mercato e ogni singolo acquirente deve registrarsi al pari che si fa con le automobili quindi una propria targa di registrazione e quindi ogni singolo orologio è abbinato a una persona che si assume anche le responsabilità di un proprio utilizzo del di questo orologio strumento insomma perché chiaramente deve essere un'emergenza vera si specificiamo può sembrare solo una curiosità però confermi è così è un'emergenza vera l'abbiamo già salvato diverse persone quindi questo è un orgoglio per quanto ci riguarda e sicuramente deve essere utilizzato con i criteri e quindi ogni singolo possessore fa un corso prima di poter entrare in possesso del suo orologio proprio per conoscere tutte le caratteristiche di questo orologio bisogna essere proprio piloti però quasi alla fine probabilmente a volente o non volente lo si diventa piloti 2003 si parlava di questa data no come inizio di questo di questa liaison tra bentley e brightling 2003 vuol dire anche la 24 ore di le man però vinta proprio da bentley ecco diciamo che probabilmente tutto questo non sarà proprio casuale nel senso dell'inizio di questo di questo rapporto il nostro sodalizio nasce sostanzialmente da questa incredibile performance di bentley a le man è una doppietta fantastica che brightling che era sponsor del team bentley ha voluto celebrare con un orologio appositamente realizzato che si chiamava appunto bentley le man che ha avuto un successo immediato e veramente incredibile per cui da lì è nato sulle ali di questo entusiasmo tutto un percorso che ci porta ancora oggi a rinnovare appunto ogni anno la collezione questa collezione è una collezione un po particolare per esempio qui in studio abbiamo questa formidabile automobile che si chiama bentayga e che è una grande grande vettura costosissima velocissima lussuosissima per questa vettura è stato fatto anche un orologio particolare che non è quello che viene montato in vettura ma è secondo te patrizia che cos'è è un orologio beh a una vettura così meravigliosa così piena di primati credo che sia il SUV più poi corgetemi se sbaglio ma credo che sia il più veloce al mondo il più costoso in questo momento al mondo i manager di Brighton non potevano che dedicare una cosa veramente esclusiva un gioiello da incastonare nella plancia e quindi hanno creato quello che in orologeria viene definita una delle complicazioni più importanti ovvero un tourbillon quindi è un orologio che sostanzialmente grazie a un complesso sistema di gabbia che avvolge il movimento riesce a in qualche modo limitare le forze di attrazione terrestre quindi rendere in sintesi più preciso l'orologio il massimo della precisione che si può avere nella meccanica orologiera e quindi ha dedicato quello che il top che si può avere all'interno del mondo orologiero da incastonare però all'interno della plancia quindi lo ha anche adattato con un sistema basculante all'interno di questo splendido esemplare di SUV e quindi ecco è veramente il massimo del lusso che si può ottenere Scusa Patrizia se faccio quello così ma si girano delle cifre pazzesche su questo orologio quanto costa? Intorno ai 200 mila franchi Svizzeri Ricordo che il franco è la parità con l'euro in questo momento C'è un certo equilibrio con l'auto Siamo anche che bisogna garantirsi dei bei risparmi per acquistare Direi di sì come il minimo I Breitling for Bentley ne stavamo parlando sono oggetti davvero esclusivi preziosissimi naturalmente lo capiamo anche da quello che poi era il loro valore stimato Ma sono proprio esclusivi nel rapporto con Bentley oppure chi volesse acquistarli può farlo oppure non possedendo in questo caso una Bentley? Diciamo che la collezione Breitling for Bentley evidentemente è aperta a tutti Riprende molto i modelli diciamo più significativi oltre che nel nome anche tanto nell'estetica Le auto a cui si ispirano Quindi ritroviamo delle caratteristiche all'interno dell'orologio veramente interessanti Una per tutti Il fondello molto spesso è fatto di vetro zaffered e quindi trasparente E si vede all'interno la massa oscillante che dà energia al motore dell'orologio che è un cerchione Bentley Quindi ha delle caratteristiche veramente molto forti, molto significative, molto vicine al mondo Bentley Ma è molto vicine anche a tutti coloro che amano lo sport, il lusso, la performance, la tecnologia Beh ci sono tante cose in Breitling, una storia affascinante legata a una macchina così incredibile come Bentayga Ma come tutte le Bentley Però c'è anche un aeroplano che gira per il mondo sulla fusoliera scritto Breitling Perché? Cosa serve? Qual è il suo obiettivo? Diciamo che Breitling sicuramente è legato all'aeronautica fin dai suoi esordi Noi abbiamo una pattuglia acrobatica di sette jet Quindi sette jet che fanno volo acrobatico in tutto il mondo E sono veramente la nostra bandiera Oggi sono impegnati in un tour negli Stati Uniti E c'è un aneddoto carino che riguarda anche il discorso Bentley Ovvero Bentley ha realizzato per Breitling sette auto ispirate proprio a questi sette jet E quindi sono sette Continental GT dedicate al Breitling Jet Team Una serie ovviamente limitatissima E i fortunati possessori di queste auto, coloro che hanno acquistato queste auto Hanno ricevuto le chiavi della loro nuova auto proprio in occasione di un air show a Seattle Dai piloti Breitling che hanno consegnato le chiavi e poi si sono levati in volo Regalando a loro e poi a tutto il pubblico presente il loro incredibile show Insomma un legame più forte di questo Paolo non ci poteva essere direi No, non ci poteva essere ma a questo punto concludendo Qual è il sentiment? Cosa c'è? Il senso di questo innamoramento Bentley con Breitling? Come sintetizzacelo a Pratisi? Ma diciamo che la passione per gli orologi va a braccetto con la passione per le belle macchine Questo da sempre Quindi noi troviamo una grande affinità tra i due mondi Noi spesso abbiamo avuto la fortuna di entrare nella manifattura di crew Con nostri clienti, con nostri collezionisti E altresì noi abbiamo ospitato manager di crew Così come possessore di Bentley all'interno del shot phone All'interno della nostra manifattura Trovando sempre le stesse emozioni, gli stessi entusiasmi Per la bellezza della meccanica, della velocità, della performance E la cura anche molto del particolare, del dettaglio, della qualità E l'attenzione al pubblico finale Queste sono un po' le caratteristiche che ci legano Vi avevamo promesso che vi avremmo raccontato una storia Quella di questa splendida liaison, di questo legame tra i marchi Breitling e Bentley Ci abbiamo provato, penso che ci siamo anche in buona parte riusciti Soprattutto grazie alla presenza dei nostri ospiti Che vado quindi a ringraziare e a salutare Partendo naturalmente da Patrizia Aste Amministratore delegato di Breitling Italia Grazie mille Grazie, grazie a voi E salutando naturalmente ancora una volta Paolo Artemi Style Corriere della Sera Grazie mille Paolo per essere stato con noi Grazie a voi e complimenti, mi raccomando, Bentley e Breitling E invece per quanto riguarda noi L'appuntamento è sempre fissato per la prossima settimana Con Safe Drive Motorsport e con Racing Time